Ciao, sono Giuseppe Carune e lavoro in un'azienda di trasporti, in particolare mi occupo dell'officina meccanica come responsabile. Da sempre mi è piaciuta la matematica, anche a scuola e il mondo dell'economia in generale. Nel 2020, per caso, mi sono un po' avvicinato al mondo del trading, girando un po' sul web, vedendo un po' di video. Inizialmente ho trovato dei canali formativi che però non mi davano quella sensazione di sicurezza e di onestà nell'esporre determinati concetti. Per fortuna ho trovato il canale di Airforex e ho iniziato a seguire dei webinar delle dirette di Arduino e Antonio. In particolare c'erano delle sessioni del mercoledì che si chiamavano le live, dove venivano spiegati alcuni temi riguardanti il trading, che però non centravano tanto con l'economia in sé, ma con gli aspetti umani della persona. Mi è piaciuta questa cosa e ho iniziato a seguire sempre più assiduamente il canale. Ho trovato in Arduino e in Antonio delle persone a cui dare fiducia per un'esperienza nel mondo del trading, che pian piano ho iniziato. Inizialmente mi sono iscritto ai canali a pagamento, dove ho acquistato degli abbonamenti, e successivamente ho voluto continuare a approfondire acquistando il percorso dell'Accademia, dove al momento mi trovo all'interno. Non posso che consigliare questo percorso a tutti, in quanto vieni seguito passo passo a diventare un trader professionista, partendo dalle basi, senza tralasciare nessun aspetto. Loro sono molto professionali e mi sto trovando bene e continuerò su questa strada.